E sul Green Pass per mangiare in mensa, i sindacati chiedono che siano garantite condizioni di salute e sicurezza al personale in appalto e leggi dettagliate per regolamentare la presenza degli addetti a servizio in contesti delicati come scuole e ospedali. Annalisa Serpilli. Sono circa un migliaio gli addetti del settore mensa e nelle marche. Anche i sindacati chiedono una proroga del blocco dei licenziamenti in scadenza ottobre e una riforma degli ammortizzatori sociali. La pandemia ha condizionato pesantemente l'occupazione di questi lavoratori nell'ultimo anno e mezzo. Le aziende private che hanno utilizzato in maniera massiccia lo smart working connesse alla chiusura delle scuole hanno fatto sì che questi servizi sono stati sospesi causando una grossa crisi occupazionale per tutti i lavoratori del settore tamponata solo dal blocco dei licenziamenti e dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali. E non basta. Ora l'introduzione del Green Pass crea disparità tra fruitori e addetti al servizio. In particolare in ospedali e scuole dove il vaccino è obbligatorio per il personale interno ma non per quello degli appalti come ad esempio i dipendenti delle mense. In questo momento non c'è una legge che impone agli operatori della mensa di avere il vaccino. Però noi temiamo che essendo a contatto con persone che hanno l'obbligo del vaccino quindi sia la parte sanitaria che la parte scolastica poi questo aspetto ricada sugli operatori delle mense. Anche questo è un aspetto che può avere ricadute sulla scelta degli appalti da parte dei dirigenti scolastici o sanitari e ricadute dunque sui lavoratori. Gli sindacati sono favorevoli sia al vaccino che al Green Pass. È chiaro che il Green Pass non può essere sostitutivo di un vuoto legislativo quindi è responsabilità del Parlamento e del Governo definire al più presto un quadro regolatorio che metta in sicurezza tutto quanto il settore e i lavoratori e le lavoratrici che ci lavorano.